Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La valigia rossa, grazie La valigia rossa, se lo nomino quattro volte sono 50 euro in più La valigia rossa, se lo nomino quattro volte sono 50 euro in più Ciao papi, I love you! La valigia rossa, se lo nomino quattro volte sono 50 euro in più Ok Cosa c'è scritto qua? Giratelo Gaglia! Ciao! 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 Davanti! 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 è che balli popolari il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Grazie a tutti